Anche qui la signora mi ha contattato perché si è trasferita a Milano e voleva il suo desiderio di suo biondo e quindi mi ha contattato dato che io sono una specie di stricolore e voleva che risolveva il suo problema del suo colore perché aveva già un bellissimo colore perché legava già da un portiere da fuori Milano e io gli ho realizzato il suo desiderio perché giustamente lei ama essere un bel biondo caldo non freddo e abbiamo ottenuto questo risultato. Penso che adesso la cliente è contenta, il suo operato ha avuto una buona scelta nel nostro salone in sicurezza. Ecco io la ringrazio, abbiamo realizzato il desiderio della cliente, per la lettera che quando è venuta aveva già un bellissimo biondo, lei mi ha chiesto gentilmente dato che si è fidata dalla mia specializzazione che voleva lo stesso colore e poi come entrata e io ho fatto del mio meglio per mantenere la promessa e vedo che il risultato è venuto bene. Io la ringrazio e spero tanto di rivederla la prossima volta. Grazie signora.